Iniziano all'insegna delle polemiche e dei sospetti le lezioni alla facoltà di medicina dell'università di Palermo. Finalmente arrivano i docenti ma monta la bufera sulla trasmissione streaming delle lezioni di un'aula all'altra dopo la scoperta del danneggiamento di probabile natura dolosa di uno dei cavi della strumentazione tecnica. Sporgeremo denuncia, tuone il rettore, tra le proteste dei ragazzi mentre l'Ateneo corre ai ripari con l'inaugurazione avvenuta stamane dell'aula Turchetti, chiusa da molti anni dopo una radicale ristrutturazione, 319 posti e impianti d'avanguardia. Non resta che sperare per i ragazzi che possono proseguire l'anno accademico serenamente. Questo soprannumero è nato l'anno scorso, è stato l'evento del maxiricorso a causa delle modifiche che ci sono state al test di medicina e chirurgia per l'ingresso alla facoltà di medicina e chirurgia che ha provocato questo soprannumero. La colpa naturalmente non è da ricercare negli studenti stessi che hanno approfittato dell'occasione per riuscire ad entrare e possibilmente a seguire il loro sogno ma nelle numerose falle che si sono presentate nello svolgimento effettivo del test che hanno permesso questo grande numero di ricorsi. L'anno scorso lo streaming era stata proposta come soluzione provvisoria ed era stata eccettata proprio in quanto soluzione di emergenza ma avendo avuto adesso l'università il tempo di preparare e organizzarsi al meglio per consentire a tutti gli studenti iscritti di seguire le lezioni correttamente lo streaming non è più considerabile come soluzione accettabile per risolvere il problema. In una facoltà come medicina e chirurgia che è una facoltà abilitante non è pensabile che una lezione possa essere fatta senza il confronto diretto con il professore infatti è sempre utile per lo studente dover rapportarsi e confrontarsi anche con domande e chiarimenti con il professore. Un altro problema riguardante diciamo il nostro pieno di studi il nostro progetto formativo che è partito l'anno scorso che è nettamente diverso rispetto agli anni successivi e che diciamo dal punto di vista del tirocinio già dall'anno scorso noi dovevamo cominciare con 60 ore. Queste 60 ore per problemi di numeri di spazi ovviamente sono stati ridotti sono stati ridotti da 60 a 6 attualmente fatte 4 infatti stiamo ancora aspettando di fare le ultime due ore formanti.